Ed eccoci tornati, insomma sono ore speciali quelle sulle fonti tv per l'8 marzo, seconda edizione della nostra maratona Donne e Lavoro. Abbiamo già detto tante cose, una maratona che è iniziata questa mattina e che prosegue, va avanti, perché di cose da dire ce ne sono effettivamente molte. L'universo femminile è analizzato da più punti di vista, con più voci, soprattutto anche attraverso settori di riferimento diversi, anche con diverse sensibilità, perché è vero che si affronta questo argomento, solitamente lo affrontiamo noi donne, ma ci sono stati anche uomini presenti con noi oggi e naturalmente ciascuno offre il suo punto di vista, come ho detto prima, e anche la sua ricetta, per così dire, per far sì che la mentalità che spesso si manifesta ancora nel suo mood più arcaico possa effettivamente cambiare, perché poi parte tutto da lì. Allora, donne e istituzioni, naturalmente quando si parla di aiuti concreti alle donne non possiamo non parlare di politica e soprattutto di istituzioni che operano direttamente sul territorio e sanno o dovrebbero sapere, naturalmente non è un condizionale ironico, né tanto meno provocatorio, però è perché voglio capire proprio in questo blocco di diretta cosa si sta facendo, dicevo, dovrebbero occuparsi proprio ancora di più, dovrebbero conoscere ancora meglio le esigenze dei cittadini, quindi di coloro che operano direttamente sul territorio. E allora, io saluto per questo Silvia Scurati, consigliere regionale della Lombardia, grazie per essere con noi. Silvia, ci diamo del tu, oggi ci diamo tutti del tu in questa maratona. Grazie per l'invito. Perché è più semplice, regione Lombardia per quanto riguarda le tue competenze, attività produttive, istruzione, formazione, occupazione, territorio, appunto lo abbiamo interpellato poco fa, infrastrutture, autonomia e recentemente fresca nomina, sei stata nominata nell'osservatorio regionale per l'attuazione del fattore famiglia, altra parola chiave quando si parla di donne e qui vorrò arrivarci con te. Allora, tanti temi anche in questa parte di diretta. Silvia, ti chiedo come faccio con tutte le mie ospite, tutti i miei ospiti, cos'è l'8 marzo oggi o cosa dovrebbe essere l'8 marzo oggi? Beh, guarda, sicuramente è un momento da passare anche con una riflessione rispetto alla situazione attuale, che ovviamente è doverosa, ma anche lo stato in cui ci troviamo sulla situazione e sull'attuazione dei pari diritti. Credo che questo debba essere un momento di riflessione, che è vero che culmina simbolicamente nell'8 marzo, che noi ricordiamo arriva comunque da un evento tragico del passato, che dovrebbe farci però riflettere tutti i giorni, sicuramente per molti anche il momento appunto di stare insieme, magari di approfondire come state facendo voi oggi delle tematiche interessanti. Però dovrebbe essere un po' questo, almeno per noi delle istituzioni, fare un po' il punto della situazione, a che punto siamo poi con il vero e pieno raggiungimento della parità, dei diritti delle donne, che ripeto, siamo nel 2022, probabilmente non sarebbe più neanche necessario, non dovrebbe essere necessario farlo, ma invece ci ritroviamo qua, soprattutto poi in questo post-pandemia, ad analizzare in che momento storico e sociale siamo. Quindi credo che debba essere un po' questo, fare una riflessione e farla tutti insieme nei vari ambiti e aspetti della società, del lavoro e dell'istituzione. Certo. Non se ne parla mai abbastanza e bisogna farla anche in maniera, anche serena, senza poi arrabbiati verso qualcuno. Positivo e anche sereno. No, 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 anche perché a volte, io lo dico sempre, spesso, siamo noi donne che magari ci auto-isoliamo su certi temi. Infatti ti faccio due domande molto transcian. Intanto rispetto al settore di riferimento per quanto riguarda la tua professione, la politica è oggi nel 2022 una professione per donne? Perché sai, è uno di quegli ambiti in cui una volta era difficile trovare donne, poi sempre di più, naturalmente, anche in Parlamento, insomma, adesso la presenza è effettivamente più alta, però ti chiedo, è un mondo per donne? E poi domanda numero due, sempre per quanto riguarda la politica, se quando si affrontano questi temi, e non è mai abbastanza il tempo che si dedica a questi temi, subentrano anche gli uomini? Perché poi sai, noi possiamo raccontarcela anche da sole, ma se poi non è, come dire, un'unità di intenti, poco si fa. La risposta è sì, dovrebbe essere un mondo per tutti, perché credo che fare politica, fare amministrazione vuol dire lavorare per il bene comune. Sembrerà banale, ma io sono ancora profondamente convinta di questa cosa. Se mi chiedi se facciamo più fatica, la risposta è sì, assolutamente, perché su alcune questioni c'è ancora molto da fare, quindi probabilmente, lo dico sempre, magari dobbiamo lavorare il doppio per poter, insomma, avere il proprio spazio e la propria autorevolezza, e questo credo che sia ancora un po' un pietaggio da parte della società, forse anche un po' colpa nostra, ecco, facciamo anche giustamente un po' di autocritica, come dicevi tu. Spero in un mondo dove non debbano più servire le quote rosa, lo dico proprio fuori dai denti, che tutti possano avere il proprio spazio, il proprio ruolo nella società, nella politica, nell'istituzione, in base al tanto decantato termine meritocrazia, altro termine in quale io credo moltissimo. Se la sentono, che vogliono farlo, chiaramente messi nelle condizioni di farlo, perché no, debbono poter fare amministrazione, vita politica, così come debbono poter fare e avere il proprio ruolo anche nel mondo del lavoro, quindi questo è un po' dal mio punto di vista. Esatto, ecco, quando è significativo l'uso del condizionale, che hai usato per l'uso, scusate, ripetizione, ma comunque hai usato il condizionale per rispondere alla mia domanda, se la politica è un mondo per donne, tu hai detto dovrebbe essere un mondo per tutti, questo mi lascia intendere, poi l'hai spiegato anche in altro modo, che ancora non lo è a pieno, cioè bisogna ancora fare molto, quindi adesso poi vediamo anche in che modo. Sulle quote rosa io sono assolutamente d'accordo con te, ma perché anch'io insomma credo molto nella meritocrazia e sono due concetti che assolutamente scozzano, perché ovviamente se c'è bisogno di introdurre delle quote rosa vuol dire che non diamo spazio alla meritocrazia, cioè indipendentemente da uomo o donna dovrebbe andare avanti chi merita. Poi se, però è un concetto anche un po' stratto, se meritano di più gli uomini è giusto che vadano avanti gli uomini, se meritano di più le donne è giusto che vadano avanti le donne, ma insomma io sono anche molto ottimista, confido che prima o poi ci arriveremo a questo momento in cui non ci sarà distinzione. Allora ti chiedo subito, poi dopo torniamo anche alla tua nomina di cui abbiamo parlato, Regione Lombardia come si posiziona e cosa fa per cercare di diminuire un po' questo divario che esiste ancora tra l'universo maschile e femminile? Guarda, noi abbiamo una serie anche di organismi satelliti, oltre all'attività istituzionale che facciamo, c'è appunto l'osservatorio dedicato dove si possono appunto confrontarsi, fare una serie di incontri, di convegni, abbiamo tutto il programma triennale legato alle pari opportunità dove vengono fatti anche dei progetti di inserimento al mondo del lavoro, anche utilizzando le risorse che arrivano appunto dall'Europa, questo appunto è stato fatto anche recentemente, un convegno proprio legato al fatto della formazione continua per il riserimento del mondo del lavoro. Quello che vedo anche all'interno della commissione, che appunto è legata all'istruzione, ma anche al lavoro, del fatto che il Covid ha lasciato strascichi in una fase di manipolazione, che è quella delle donne alla fine, perché vuoi che le donne si sono ritrovate a dover accettare un part-time, quindi magari non potendo pienamente svolgere il proprio lavoro tutto il giorno, perché devono magari accudire i propri figli che si trovavano in dad, vuoi anche perché appunto il periodo del Covid ha comunque limitato già fortemente quelle categorie penalizzate. E poi abbiamo tutta una rete, diciamo che parlando di pari opportunità di lavoro, abbiamo una rete a sostegno purtroppo ancora del mondo legato alle violenze perpetrate nei confronti delle donne, non solo a livello fisico-psicologico, ma anche, per questo serve l'osservatorio, anche nei confronti appunto delle donne sul posto di lavoro, purtroppo ci sono ancora delle situazioni in questo termine. Una rete di antiviolenza che Regione Lombardia finanzia, che Regione Lombardia sostiene proprio sui territori, per far sentire meno sole appunto le categorie più fagili e in questo caso purtroppo quando si parla di violenza, lo dicono le statistiche, non lo diciamo noi, colpiscono chiaramente in maniera preponderante le donne, guardate, indipendentemente dal centro sociale, economico, perché poi questo qua sfattiamo delle dicerie che sono in alcune zone, ci sono appunto, si commettono maggiori violenze al confronto delle donne, che sono quelle che hanno una certa istruzione. Ecco, questo è un fenomeno molte volte anche sottile, latente, ma diffuso. Quindi anche questo, dare più forza alle donne vuol dire renderle più consapevoli del fatto che devono lottare e rivendicare i propri diritti al pari degli altri, né più né meno. Certo, ma poi per esempio, tu parlavi anche dell'ambito del lavoro, sai, molto spesso anche la violenza è subdola perché non si capisce subito, io la definisco un po' il disagio, magari trovarsi in un posto di lavoro e sentire che c'è qualche, insomma, qualche pressione, definiamola così, da parte di chi sta sopra di noi, quindi del superiore. E quello è difficile poi, no, da spiegare, ma a volte anche da capire a pieno e quindi si tende a evitare di raccontare quello che succede. La violenza psicologica, perché poi rientra qui, è infatti più pesante, perché più pesante diciamo da scardinare, ecco, se posso. Poi è chiaro che quando c'è violenza, a prescindere da quale sia, è difficilissimo spesso farla emergere, perché è difficile raccontare, però insomma, iniziative come questa servono anche per far capire che invece se ci uniamo tutti, non solo le donne, ma anche gli uomini possiamo riuscirci. Giusto? Sei d'accordo? Ti ricordo anche a chi ci ascolta che anche il Consiglio per le paro opportunità regionali di cui parlavo prima, si occupa anche di supportare le donne anche nel mondo del lavoro. Abbiamo anche fatto una convenzione con gli avvocati di tutta la regione Lombardia, anche qua, per parlare l'accesso a chi magari, purtroppo, già minata dal fatto di aver perso magari il posto di lavoro nel Covid, di avere magari degli orari ridotti di lavoro, non può economicamente rivolgersi magari a un legale, anche solo per chiedere una consulenza del Consiglio. Qui dicevo che fortunatamente che grazie al terzo settore la rete di regione Lombardia è viva ed è profondamente attiva. Questo è un po' il messaggio che voglio lanciare. Ecco, sì sì sì, assolutamente, mi associo anch'io. Ecco, tu hai già giustamente detto come con, purtroppo, con la pandemia, con il Covid, si sia, insomma, allargato ancora di più questo divario. Ci sono ancora più differenze tra il mondo femminile e il mondo maschile, ma banalmente sappiamo già che una donna, anzi molte donne, per esempio, scelgono il part-time piuttosto che il tempo pieno dopo la prima gravidanza perché non hanno la possibilità di avere assistenza, no? Sia personale ma anche proprio per la gestione dei figli. Immaginiamoci con la pandemia che, come dicevi tu, ha obbligato i genitori in generale, ma soprattutto magari le donne, a restare a casa, ad accudire anche i figli con la DAD perché le scuole erano chiuse, ma in generale per tutto l'ambito della cura familiare. Sappiamo bene che a carico della donna la cura anche dei parenti che non stanno bene, genitori anziani, insomma, questo è risaputo. Col Covid è aumentato ancora tutto di più. Visto che abbiamo parlato della tua nuova nomina Silvia, raccontaci un po' l'osservatorio regionale di cosa si occupa e come si inserisce poi in questo discorso, proprio per la tutela della famiglia ma anche per l'aiuto, immagino, no? Per chi deve, cioè per chi ha una famiglia e deve gestire la famiglia tra le milioni di cose da fare in giornata. Sì, guarda, lo dicevi tenente prima, i dati del post-Covid sono drammatici, oltre appunto alle convivenze forzate, è anche un po' spezzato quella rete familiare, perché lo sappiamo tutti, il prezioso ruolo svolto anche dai nonni nell'accudire i nostri ragazzi all'uscita dalle scuole, per esempio, cosa che invece in fase pandemica chiaramente è stato fortemente limitato per una serie di restrizioni, ma anche per la tutela dei nostri anziani stessi. Dicevo che il fattore famiglia è uno dei temi di cui se ne parla a livello regionale, ma anche a livello nazionale, non si è stata la prima regione a proporlo, che vuol dire che anche nel sostenere i nostri nuclei familiari bisogna tener conto non solamente della situazione reddituale, come si è sempre detto prima d'oggi, ma anche delle condizioni in cui vive la famiglia, quindi facendo degli esempi concreti, il numero di figli, ma anche se una famiglia si sta trovando a pagare il mutuo per la prima casa, ma anche se ci sono all'interno del nucleo familiare dei ragazzi portatori di disabilità, insomma tutta una serie appunto di fattori che vanno a dare un valore maggiore e anche, perdonami, anche uscire un po' dall'anonimato perché è troppo facile considerare un nucleo familiare solo in base al reddito, no, perché ogni famiglia ha degli aspetti, delle sensibilità, dei componenti che hanno chiaramente delle esigenze diverse, noi riteniamo che per accedere ai servizi, perché no, si debba tenere in considerazione tutte le sfaccettature che hanno i nostri nuclei familiari, questo è un po' il succo e quindi è necessario, è necessario lavorare affinché trovi piena attuazione il principio appunto del fattore famiglia. Certo, ecco, visto per porre ancora più l'accento su quello che è successo dopo il Covid, questi sono dati di ottobre 2021, praticamente il tasso di occupati è del 67,8% per gli uomini e del 49,5% delle donne, è palese la differenza, insomma, sono dati Istat, quindi insomma non sono dati certo scritti da me né tantomeno da Silvia Scurati e quindi peraltro proprio a ottobre 2021 l'occupazione femminile ha registrato crescita a zero rispetto a settembre, cioè si è fermato ulteriormente tutto proprio per le conseguenze del Covid, anche perché appunto, come detto, le donne si trovano spesso di fronte alla scelta, quindi no, devo stare a casa perché altrimenti nessuno riesce a occuparsi dei figli piuttosto anche di persone anziane, questo è chiaro. Il titolo che abbiamo però messo vuole essere, Silvia, un po' di buon auspicio, è vero che partiamo da una situazione penalizzante, ulteriormente penalizzante per le donne, ma il futuro deve essere ambizioso dopo il Covid, cioè secondo te può essere questo periodo, può aver fatto questo periodo da spartiacque rispetto a un periodo ancora lontano dalla situazione ideale per cui non ci saranno più differenze, ha una situazione appunto sempre in miglioramento da questo punto di vista? Io mi auguro proprio di sì, che almeno il post-pandemia possa portare a questa svolta, noi come regione abbiamo messo in campo una serie attraverso i nostri assessorati anche di corsi per l'inserimento del mondo del lavoro nei confronti appunto degli over 40, perché non lo neghiamo, comunque lo dicevi anche tu, i dati sono lampanti, ma anche nei confronti delle donne che vogliono essere inserite nel mondo del lavoro. Quindi io sono assolutamente, guardo al futuro con ottimismo e con positività, perché credo che questo possa essere davvero una svolta, dobbiamo volerlo anche noi. Certo. Se ci fosse una parità di trattamento, che è quello che alla fine si chiede, non si chiede nulla di più in tutti gli ambiti, credo che appunto questo tema sia già, possa essere già ampiamente superato. Passi in avanti però ne sono stati fatti, credo che anche bisogna guardare indietro e capire che comunque qualcosa si è fatto negli ultimi anni a livello delle nostre regioni, ma a livello anche nazionale. Si sta cercando di dare più tutela e più ascolto. Guardate che anche il numero di denunce ha aumentato, tornando a un tema purtroppo triste, quello della violenza, anche dopo l'inserimento del codice rosso. Insomma, solo tutte misure che hanno fatto sentire meno sole. Certo, ci fosse la certezza da pena, magari qualcuno denuncerebbe con maggiore serenità questo rappello che lancio anche i miei colleghi. Brava, sì sì sì, assolutamente. È anche una delle riforme. Perché dopo ci si impegna, si fa rete sul territorio e ci si imbocca tutte le maniche, ma poi qualcosa deve essere ancora perfezionato nell'ambito del posto, le cronache leggiamo tutte. Però credo che anche sul mondo del lavoro, con i costi, con i fondi, con maggiore rassicurazione nei confronti delle nostre famiglie, credo che si possa anche qua guardare in modo... Certo. Un'ultima domanda, riprende un po' una cosa che abbiamo ribadito in questa parte di diretta in diversi modi. C'è il fatto che dobbiamo cercare di sgravare le donne anche da compiti che sembrano ancora riferite solo a loro, cioè la famiglia, i bambini e gli anziani. Ci sono, diciamo, si confida molto nel PNRR, cioè nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio perché sono stati previsti effettivamente degli interventi importanti per le donne. Però io ribadisco ancora una volta che sì, gli incentivi all'assunzione possono servire, però le norme da sole non possono fare rivoluzioni. Bisogna assolutamente andare a parare sull'altro aspetto, cioè servono per esempio più asili, più possibilità di delegare anche l'assistenza degli anziani. Questo deve essere però un discorso, cioè deve far parte di un unico discorso, altrimenti se li continuiamo a considerare elementi scollegati non arriviamo da nessuna parte. Ecco, ti chiedo cosa ne pensi e da questo punto di vista ancora di come si posiziona la Regione Lombardia. Sono assolutamente d'accordo, ricordo come ricordate tutti qualche anno fa si è partito con i famosi asili nidoaziendali, che laddove le grandi aziende le hanno messi in campo sono stati davvero un grande sollievo e uno sgrave di preoccupazioni. Ma tornando anche ai fondi europei, credo che anche i nostri comuni siano chiamati a essere protagonisti, perché se si investe anche per quanto riguarda le RSA, se si investe anche sul diurno, molte RSA lo fanno già un servizio eccellente, quindi anche qua innanzitutto è un momento di socializzazione importante per i nostri aziani, ma anche è uno sgrave ulteriore per chi altrimenti dovrebbe chiaramente occuparsene 24 ore su 24, così come potenziare anche i nostri servizi a livello comunale, ricordo la misura degli asili nido gratis, sul quale Regione Lombardia investe ogni anno parecchie risorse, perché cosa vuol dire potenziare questa rete? Vuol dire garantire alle mamme di avere un luogo dove sanno che i propri bimbi sono accuditi e quindi poter recarsi il lavoro, quindi come dicevo prima, la rete va fatta nel complessivo, non solo sul lavoro, ma c'è la parte sociale, la parte di gestione dei nostri anziani e solo potenziando i servizi a livello territoriale si può benissimo poter veramente creare una, fare veramente rete nel concreto e non solo a parole, su questo io credo fortemente, quindi va bene. Allora, visto che noi dopo, lo abbiamo fatto dall'anno scorso, dalla scorsa edizione, dopo l'otto marzo, comunque torniamo ogni mese proprio a ribadire questi temi, a portare ancora l'attenzione a questi temi e a capire cosa si fa di mese in mese, ci risentiamo, è una promessa che facciamo anche tra di noi, ma anche a chi ci segue, a tutte le donne, visto che oggi è la giornata internazionale della donna, ci risentiamo per capire a livello istituzionale che cosa si fa per crescere sempre di più e per far sì che le donne possano sentirsi sempre più protette e aiutate, fino a quando non ci sarà più bisogno di parlarne, io questo lo sottolineo sempre perché è la cosa più importante. Grazie a Silvia Scurati, consigliere regionale della Lombardia per essere stata con noi, una delle protagoniste della nostra maratona. Grazie a tutte le donne che ci stanno ascoltando e buona maratona, forza e coraggio. Grazie, grazie, certo, noi non ci arrendiamo, grazie a Silvia Scurati e appunto restate lì perché noi continuiamo.